Ragazzi faccio questa piccolissima intro per dirvi una cosa Purtroppo come alcuni di voi sapranno ieri YouTube mi ha eliminato il video di Agario Questo perché non so chi ha segnalato il video per contenuti pornografici È il tutto per una skin di un utente che rappresentava una tetta Ragazzi moltissimi mi hanno chiesto di riuppare il video perché comunque era venuto divertentissimo E ci tenevate ad averlo sul canale Quindi ho deciso di ricaricare il video Però siccome so che sicuramente voi mi sarete d'aiuto e mi darete un sacco di supporto Ho deciso di ringraziarvi facendovi un piccolo regalo Cioè alla fine del video vedrete altri minuti bonus di gameplay Vi assicuro ragazzi che per chi non l'ha visto sarà un purpurriti di epicità E per gli altri rigodetevi il video e godetevi il lasciare bonus Grazie a tutti per il supporto se riusciamo raggiungiamo gli 8000 like perché sarebbe incredibile Ti lascio al video Ciao a tutti ragazzi questo è il tuo Jack Spurri e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Agario e siamo qua con un botto di gente In ordine Brasocrew Bistard No che verba Io oggi sono asdrubale per gli amici Scamper Ho preso un colpo regà Olè e jumpy deck che ovviamente non ci interessa il suo saluto Ciao Oggi siamo tornati su Agario e come vedete ho scelto una skin abbastanza ignorante Vicky a bordello ci sta Ci sta Io ci sono 800 Assassin's Creed Ebbè è come nella realtà Ho 20.000 titoli Benvenuti in seguito da Doggy Vai brazzoliamoci 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 Adesso No 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 Linchia forse non ti riesco a mangiare Adesso si però head è veduino e nolo signore e signori e andiamo a prenderci anche brazo crew si si mi lagga ma che merda è brazo no si è brazo crew è andato brazo vieni qui fatti sacrificati ma chi ti sa in c***a ho un paolo di dio cosa non l'avevo visto però un paolo di dio regà c'è il jumpy che fa la merda non è vero brazo fa la merda sai che sta facendo c'ha tutti i suoi iscritti ciao jumpy che lo stanno bustando che schifo jumpy tech corrotto avete lanciato le madonne e sono morto leggi proprio io propongo un'alleanza chi si vuole alleare me lo dica tanto io non tradisco e i video parlano chiaro dai oh ma qua si dividono tutti non se può gioca il pi greco cioè se non mangi morri sei un coglione ma ta ormè sono diventato una cagna io cioè sono la puttana di turno guarda c'ho jumpy mo questo te busta guarda ehi beduino vieni qua dai ma bau bau di dio non posso metterlo cristo ma che ma poi è enorme cioè come c***o faccio a censurare un bau bau di dio così grosso dai charmander veramente sei il pokemon più inutile del mondo fatti mangiare chris oh bastard vabbè bau 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 di dio hai lutto il c***o ma chi è bau bau di dio ditemelo almeno so con chi prendermi camper camper ma porca c***o non ti chiamavi a sdrubale no sono io a sdrubale ma andeta me l'affanculo un po' io sto prendendo punti non sto uccidendo più nessuno ciao jumpy oh ciao jumpy che gira come un coglione per la mappa cercandoti questo sarà anche un tuo iscritto adesso l'obbligo è disiscriversi si ma non mi riconosce perché mi chiamo beduino c***o ma lo sentirei nel video bruttodown oddio oddio jumpy un gangbang non fa un c***o proprio tog life no jumpy tec di m***a ora mi chiamo xmr quel tizio che ti sta boostando boosta un po' anche me c***o guarda sta inseguendo un brazzo chi è che non sono jumpy ora camper ritardato madonna camper ma ti vuoi chiamare sempre allo stesso modo per dio hai rotto il c***o mi sta facendo una strage tutti con sti funghi di m***a veramente sembra un rave di c***o le cose più belle le devo tagliare vieni qua camper di m***a no si no camper veramente mi devo toccare le palle peggio di jumpy quando ci sei tu brazzo ma non mi sono buttato lagga veramente come le sinapsi di jumpy tec lagga non lo so ok ciao perché ci sono le bestemme che dio c***o io no jumpy che palle dai jumpy che palle guarda qua che c'ho un dio c***o che mi segue dai chi è jumpy tec oddio c'è un altro jumpy tec peggio della peste c***o è virale oh no 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 kenny no kenny no kenny no kenny no kenny no kenny mi chiudo all'angolo mi chiudo all'angolo oddio sono decimo sono decimo zitti tutti di è finita no 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 kenny no kenny no kenny pensaci bene è una danza no 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 è il morise si sta riballando sagario in italia non mi caca nessuno adesso so che vi faccio vedere ok ooo mamma mia beduino è secondo santo dio della croce ma come c***o sai fatto oh dio 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 giastroga vieni qua che faccio un giochino no guarda mio dall'alto dei suoi cento abitanti ok il beduino sta jumpy per me che è enorme se sbaglio il molise è il molise non perdona si sa quindi sto attenti sto farmando bene no attento Oddio, grande giocata di Jastroga Grande giocata di Jastroga Eh, t'ha fottuto Eh, Molise, ciao, ciao, Molise Ciao, porco, porco Molise Oddio, oddio, regà Oddio, regà Sono nella merda Oddio, regà No, 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 no Oddio, 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 regà, sono morto Che mi dimentica Sicuro, sicuro, sicuro Sono morto, regà Attenzione Scappa, scappa Molise, è merda, Molise, è merda Molise, è merda, Molise, è merda È finita, è finita, è finita È finita, io mi divido Tantissimo, mi divido Oh, Molise Ma c'è stato di cozzo, Gianfid Oh, Molise Molise È ritorno a Beduino Più forte che mai Beduino è nono, figlioli, figlioli miei Oddio, oddio, regà Attimo No 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 Allora, visto che YouTube puzza il culo Ha ben deciso di levarmi il video di Agario Per contenuti pornografici Quindi, se siete tutti d'accordo Io intonerei una bella dedica a YouTube E' roba Tuca Non avete problemi Oppa, Aspen Minchia è vero Da vantare che colui che ha fatto questa skin ha preso la mia macchina, perché questa è la mia macchina Ha la targa ACAB Ho avuto la briga di cancellare la targa e scrivere sopra ACAB Ha l'inculato Io Non vorrei Chi è che è di Ocancanna? Io Ocancanna Giampi, tu non sei il zeta giampi? No, non sono io Oddio, zeta giampi che si sta mangiando la 600 È il primo caso di cannibalismo verso le macchine Cioè non si era mai visto Secondo me non se la sta mangiando e vuole entrarci dentro Vuole salire in macchina No, Giampi, te la sei mangiata porca puttana Giampi fa schifo Voglio farti vedere i miei trickshot Madonna regà, Internet Explorer lagga pure su Agario C'è una cosa veramente impressionante C'è un'altra skin per la 600 di Jumpy Se lo scrivi tutto attaccato c'è una 600 distrutta Davvero? Chi è che si chiama Borgo Madonno? Naruto Oddio Mi son mangiato Naruto Oddio sono sesto Sei come la 600 con Illuminati Conferment Cos'è? Più veloce Oh regà Madonno No No regà No Che è successo No No La 600 è andata a puttana regà Che macchina di merda Vabbè Ma scusa ma se Jumpy fa schifo Ma è normale Scusa Ok ragazzi questo video vi dice qua Spero tantissimo che vi sia piaciuto Lasciate un like E noi ci vediamo al prossimo episodio Woo